In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Ponte di Legno, Tonale, Valle del Chiese, Paganella Schi, Alpe Cimbra, Val di Sole Cristian Zorzi, lo zorro dello scinordico, il cavallo pazzo dello scinordico, non per niente era il fondista della velocità nello scinordico per due volte sfiorata la Coppa del Mondo Sprint, grandi risultati e quell'oro olimpico a Torino 2006 con un'impresa che rimarrà nella storia perché mai l'Italia aveva vinto staccando gli avversari e tu ci sei riuscito Beh, con grande sorpresa di tanti perché non pensavano che io riuscissi a fare il colpaccio in quella maniera tutti si aspettavano magari un'eventuale volata però diciamo che è andata d'intuito io ero l'unico, quando abbiamo fatto la conferenza stampa che ci hanno intervistato e ci hanno detto ognuno di noi cosa volevamo fare o cosa speravamo di ottenere il giorno dopo i miei compagni uno una medaglia, uno speriamo di fare bene, io ho detto io sono qua per vincere non volevamo che i norvegesi si riprendessero la rivincita dalla battosta di Lillehammer e quindi eravamo molto concentrati un po' tutti, insomma dai tecnici a tutto lo staff, noi atleti e vincere così in solitaria, diciamo che è stato molto più serena la cosa però sarebbe stato molto più intesiasmante vince l'ambulata anche perché ti saresti preso una rivincita di Soul City esatto, esatto, quella Soul City, vabbè, eravamo contenti comunque perché abbiamo perso però eravamo tutti giovani e quindi abbiamo lottato fino alla fine per vincere loro mi è andata male anche perché con Thomas Asgard sono state pochissime le volte che sono riuscito a vincere una volata con lui i tracciati dove erano corti, uno sprint tipo a lati quando sono arrivato davanti a lui nell'individuale è andata bene così, è andata bene così allora ricordiamo che a Torino il quartetto concluso da Christian Zorzi era composta da Fulvio Valbusa Giorgio Di Centa e Pietro Piller-Cotter, un quartetto molto forte però tu hai anche un titolo mondiale, Staffetta Sprint a Sapporo 2006 e in quell'occasione un bambino che ti vide in televisione disse che eri più veloce, volavi più veloce di un piccione addirittura, tante cose non me le ricordo neanche più comunque vabbè, grande e bella giornata anche quella perché insieme a Renato un altro molto tosto, Renato Pasini che abbiamo vinto una medaglia d'oro voluta, proprio voluta di cattiveria non arrivavamo da grandissimi risultati quindi era già meno scontata la vittoria rispetto agli anni precedenti però la classe non è acqua diciamo dai, diciamo che la prima volta è fortuna le prime volte che vincevo le medaglie diciamo che fortunato che è stato la seconda dai, poi dopo stavano tutti zitti quindi alla fine le abbiamo portate a casa tantissime di medaglie perché sono proprio tante quando vedo sto tavolo non solo da parte mia ma anche di tutti i miei compagni, ex compagni, ex compagni e quindi è bello anche arrivare in gare questo grazie a chi ha organizzato tutto questo quindi non so chi è stato uno a caso anche perché non condividiamo noi queste vittorie solo con i tifosi ma anche con voi giornalisti con tutto l'ambito in cui ci circonda e il bello è quello che si crea una bella famiglia Piero De Godens, uomo della Val di Fiemme, tre mondiali, 91, 2003, 2013 e adesso 2026 la grande conclusione, la ciliegina sulla torta, le olimpiadi invernali che testimoniano il valore della Val di Fiemme Sì, ho visto anch'io i dati che ci hai mostrato, è veramente una cosa direi unica, eccezionale e dopo ci pensi e ti ricordi che almeno io ero alle scuole elementari quando ci hanno fatto fare il disegnino e siamo stati in piazza per festeggiare la vittoria di Franco dopo abbiamo vissuto quelle dei fratelli Vanzetta, lì ero col bandino a suonare quando sono rientrato e passa la storia, passa davanti tutto questo film e vedi anche le edizioni delle coppe del mondo dei campionati del mondo ed effettivamente ti rendi conto che i motivi sono molteplici sicuramente aver avuto qui le due scuole sia della polizia che della finanza aver iniziato con la Marciala Onga e col Trofeo Topolino quindi con eventi un po' più piccoli che però hanno... però penso che alla fine il cuore sono stati proprio i grandi campioni i grandi campioni che hanno portato quella voglia di credere in questo sport sicuramente più povero rispetto all'alpino che però ha portato la valle e penso anche il Trentino a essere conosciuto in tutto il mondo grazie a questo tipo di disciplina io sono convinto che anche il riconoscimento che è arrivato adesso con l'assegnazione con la scelta di svolgere in Val di Piemme le discipline nordiche è proprio per quello che la valle ha saputo dimostrare a tutto tondo due delle campionese della Val di Piemme Bic e Vanzetta, Cristina Paluselli mancano l'idiatrette la prima italiana a vincere una medaglia olimpica nello snobo purtroppo non ha potuto partecipare alla nostra serata e Antonella Confortola, neomamma che ci ha dovuto abbandonare Bic, hai al collo una medaglia che è doppiamente storica prima medaglia italiana, staffetta, mondiali del 91 Bic e Vanzetta, Manuela Di Centa, Gabriella Paruzzi, Stefania Belmondo per me è stata la migliore delle altre che ho avuto dopo però questo ha un significato profondo per me perché è stata la prima medaglia mia personale e la prima della staffetta italiana, femminile Abbiamo detto che la Val di Piemme può essere considerata una nazione per la quantità di medaglie, per la posizione che ha nel medagliere olimpico e mondiale ma dentro questa serie di record c'è un altro record Bic e Vanzetta è la sorella di Giorgio Vanzetta credo che possiamo dire che siete la famiglia più medagliata al mondo nel mondo dello cinordico No, penso che ci sia stato anche i Valbuse che hanno fatto le loro belle gare comunque sono contenta di aver partecipato a tre mondiali e tre olimpiadi quello è importante, partecipare e poi se arrivano le medaglie è ancora meglio Complimenti Bice E siamo a Cristina Paluselli medaglia di bronzo ai mondiali 2001 un mondiale che ha due facce la faccia della gioia per la medaglia ma la faccia triste per come è arrivata la medaglia squalificata la Finlandia per doping fu l'anno in cui la nazionale finlandese venne falcidiata per le vicende del doping ma la tristezza era per come vi sono state date poi le medaglie in un sacchettino e voi vi siete autopremiate con i CT va no, in una stanza d'albergo creando con le sedi il podio e vi siete premiati credo che questa sia una cosa fantastica per un atleta Ma per me che insomma è stata l'unica medaglia diciamo dei mondiali la tristezza di non aver potuto essere premiati perché io credo che per la mia esperienza anche dopo la premiazione è la cosa più emozionante che non vivi in gara in gara hai da fare altro che non emozionarti e quindi quello che è mancato è proprio stata l'emozione del momento Ma l'emozione ce l'hai adesso al collo? Sì sì ma poi dopo ci siamo anche divertiti il giorno che ci ha dato la medaglia alla fine è inutile starla a pensare alla tristezza poi alla fine la medaglia c'era Dario Dinca detto il gufo Alessandro Vanoi detto pollicino o nano ghiacciato sono i due tecnici potremmo definirli i Pozzo i Berzot, i Lippi dello Scinordico certamente il momento più emozionante è Lillehammer Beh assolutamente Lillehammer è stata l'apoteosi del fondo cioè vincere una staffetta nella terra degli norvegesi è stata veramente una cosa fantastica Rivedendola ancora adesso ci vengono i brividi perché vincere in quel modo a casa dei norvegesi davanti a 200.000 persone direi che è stata una cosa veramente grandiosa e che rimarrà nella storia però tutto questo non sarebbe stato possibile se alla base non avevamo quel parterre di atleti che avete visto anche questa serata magnifica che avevano la voglia di emergere e la capacità di emergere perché non basta la voglia quindi abbiamo avuto un insieme di concause che hanno prodotto questo grandissimo risultato Un valtellinese e un bellunese Dario Dincali il tecnico come dicevamo aveva la responsabilità tecnica ma aveva anche una grande responsabilità tenere sotto controllo Maurilio De Zolt Maurilio è arrivato in squadra nel 76 però non è poi sì ci sono tante leggende qualche d'una basata su verità però Maurilio ha insegnato anche tanto faceva delle cose che le abbiamo viste fare a lui allora vedete perché non proviamo a farle anche agli altri qualche d'uno ci è rimasto per strada perché freddo dal forte bisogna inarsi tanto e se non hai il fisico che ti sostiene poi alla fine paghi però era uno sì che ha dato tanto diciamo e aveva un motore pazzesco cioè ce l'ha ancora nel 2026 arrivano le Olimpiadi in Val di Fiemme e il CIO ha garantito le Olimpiadi dell'Italia anche sulla base dell'agenda 2020 che punta a rendere meno gigantesche le Olimpiadi e la loro organizzazione una scelta che sembra un paradosso ma è nata in Trentino nel 2013 il Trentino ha ospitato le università di 2013 e proprio questa organizzazione si è attenuta a un rigore assoluto nell'utilizzare tutti gli impianti esistenti e nel gestire al massimo i budget economici per tutte le organizzazioni in generale segretario generale era Filippo Bazzanella diciamo che nel 2013 per noi è stata una scelta quasi obbligata perché avevamo un budget contenuto e perché comunque non avevamo il tempo per costruire comunque altri impianti ma da lì abbiamo un po' imparato che si fa di necessità virtù e se vogliamo abbiamo abbiamo adottato un modello nuovo di organizzazione degli eventi sportivi con un'alta qualità organizzativa che non è stata improvvisata abbiamo scritto anche un libro con Egon Tainer su questo cioè sul fatto che si può organizzare un evento badando al sodo e quindi il titolo del libro è must have nice to have cioè prima quello che si deve fare poi quello che si può eventualmente fare in più una serata da campioni olimpici campioni del mondo abbiamo parlato per tutta la sera di Scinordico ma i campioni del mondo non ci sono solo nello sport ci sono anche nella vita e ci sono nel turismo un segmento importante per l'Italia vitale per il Trentino per la Val di Fiemme siamo con Giaccarlo Cescatti direttore dell'APT di Val di Fiemme abbiamo parlato di medaglie di risultati di record cosa possiamo dire della Val di Fiemme che si presta nel 2026 ospitarle Olimpiadi grandissimo appuntamento un'opportunità irripetibile l'appuntamento degli appuntamenti ci sarà un bel lavoro da fare perché se si vuole trasformare questo evento in un'opportunità economica e anche sociale per il futuro bisogna arrivare super preparati per cui il percorso che ci vede adesso nella fase di avvicinamento delle Olimpiadi sarà un percorso complesso articolato che richiederà energie competenze e siamo con Mauro Mazzola Italica Turismo facciamo un saluto all'amministratore delegato Roberto Tedesco grande appassionato di Scinordico non poteva essere qui questa sera in giro per il mondo partecipante di svariate marcialonghe in giro per il mondo perché Italica Turismo ha creato una serie di società in partnership con un colosso spagnolo ed è all'avanguardia nel settore in coming alberghiero gestione alberghiera tour operator si diciamo che copriamo a 365 gradi tutto quello che di fatto il turismo è speciale principalmente veniamo dal mondo digitale oggi travel è una delle prime cinque bad banks e OTA a livello europeo e si sta espandendo a livello mondiale e siamo presenti in Val di Fiemme guarda caso proprio con un albergo a Bellamonte ed è un onore essere qui presenti in una valle così ricca di sport sali in quota avvicinati alle montagne del Trentino Occidentale con funivie e seggiovie fino a settembre le località dell'associazione Schirama Dolomiti ad Amello Brenta ti aspettano per scoprire gli itinerari più belli se acquisti adesso lo ski pass stagionale del prossimo inverno avrai libero accesso agli impianti di risalita tutta l'estate vivi con noi una stagione di emozioni info su schirama.it sportoutdoorviaggi.it l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it Sabice fatti di sport in collaborazione con Schirama Dolomiti ad Amello Brenta Madonna di Campiglio Pinzolo e Valendena Val Sugana Cunevie Folgarida e Marilleva Val di Fiemme Valle di Lebro Valendena Valendena